Ciao ragazzi, sono Marco D'Andrea, chitarrista dei Planetard e del mio progetto monimo Marco D'Andrea. Oggi sono qui per parlarvi delle corde DR, le DR Strings. In particolar modo uso in accordatura standard le DR Strings Veritas 1046, come potete vedere in sovraimpressione, o in accordatura mezzo tono sotto o un tono sotto, sempre le Veritas 1150. La particolarità di queste corde è che sono molto morbide al tatto, nonostante comunque anche le 1150 siano abbastanza grosse. Un suono bello caldo, avvolgente e soprattutto ricco di armoniche. Vi faccio sentire. Oh yeah!